No, siamo partiti, partiti, ci siamo, eccoci qua. Bene, meno male, c'è due minuti di ritardo. Meno male che siamo partiti, gesemu, gesemu, ci dicono la chat, ottimo, è abbondanza. No, è su iPad che ancora non funziona. È su iPad che ancora non funziona ed è molto lento su mobile, ma intanto siamo partiti. Su mobile non si vede un cacchio. Ma siamo partiti comunque, siamo partiti, buoni, state buoni, la chat esplosa, tipico, va todos, ci sentono, eccoli, sono felici. E questa è la cosa importante. Va bene, iniziamo con le domande, allora, come sempre vi ricordo partiamo dalle domande sui commenti e poi ci spostiamo alla chat. Quando lo diciamo noi, non prima. Assolutamente sì, quando lo diciamo noi e non prima. Le domande nei commenti sono tante perché chiaramente abbiamo, intanto dicono l'ore con Apple Watch, sì, l'ha comprato in America all'E3. Nella sua infinita inutilità. Parlando di E3, avete un sacco di domande sull'Electronic Entertainment Expo. Per esempio questa, pregi, qual è il segreto per una buona lasagna? Allora, l'importante innanzitutto è il ragù, ragazzi. Il ragù va fatto bene, il ragù alla bolognese ha degli ingredienti che sono abbastanza tipici, anche se ha tante variazioni. Dipende da come lo volete, a me piace denso la lasagna perché deve essere molto saporito. Va bene, dai, ok, abbiamo capito. Uno che mette 17 chili di formaggio sulla lasagna, mamma mia, rovinando così. Non metto 17 chili di formaggio? Ma sì, metti un casino di mozzarella. Ma perché è buona la crosta, la crosta è buona. Comunque. Ok, allora, iniziamo con le domande generiche. Quelle non legate alla cucina, ragazzi. Sì, allora. Partiamo dalla domanda di Dante. Yes. Volevo chiedervi, credete che alla Gamescom Microsoft annuncerà una nuova IP oppure una bomba? Allora, Microsoft ha fatto un'ottima E3, ricordiamolo tutti. Si è tenuta alcuni dei giochi più importanti e interessanti della sua line-up per la Gamescom di Cologna. Come abbiamo detto, perché c'è uno Skillbound, hanno Crackdown e non mi ricordo qual era... Ah, e anche Quantum Break saranno tutti presentati alla Gamescom. Senza contare che all'E3 hanno presentato dei giochi, cioè alcuni giochi che sono in arrivo quest'anno, a differenza di Sony, che invece fondamentalmente non ha nulla. Infatti, partiamo dal concentrato fondamentale, che l'E3 di quest'anno Sony ha fatto una mossa di marketing incredibile con quella conferenza, perché ha hippato tutti come dei pazzi. Senza però avere effettivamente nulla. Senza però avere nulla di concreto per il 2015, cioè nel 2015 la line-up di Sony natalizia è incredibilmente debole. Quella di Microsoft è incredibilmente forte, perché se tu mi vai a paragonare Antildone e gli altri 7-8 prodotti minori che ha Sony in uscita, non possono assolutamente competere con roba come Halo 5, Forza e Tomb Raider, che usciranno tutti nel periodo natalizio. A mesi separati, ma nel periodo natalizio. Quindi a livello di line-up quest'anno è la morte per Sony. Ma a livello di 2016 l'hype per Sony è enormemente superiore a quella di Microsoft, perché la conferenza di Microsoft, pur presentando dei prodotti molto solidi e molto interessanti, non è riuscita comunque a izzare gli animi come quella di Sony, che ha fondamentalmente vinto tutto a livello di immagine. E le tre è questo, come dicevamo anche in quella famosa collezione con Spazio Games, che poi è saltata perché Twitch ce l'ha tagliata in tre parti. Le tre è marketing, le tre è immagine, le tre è pompare tutto all'americana. E lì Sony ha stravinto, perché ha puntato sia sul fattore nostalgia che sulle novità di alta qualità. Perché comunque ha dei tinko e controcazzi sotto. No, perché ci hanno detto che siamo sonari perché avevano detto che Sony ha vinto, ma è la realtà dei fatti che a livello di marketing Sony ha fatto una mossa. Ragazzi, vi starei a spiegare perché. Pensare che noi possiamo essere dei fanboy è ridicolo, ma ci metterei un'ora e andrei anche sull'aggressivo, quindi facciamo che non lo dico. Facciamo che, fidatevi, non abbiamo preferenze a livello di console, soprattutto quando facciamo questo lavoro. Le abbiamo magari personali perché ci piace giocare più con una cosa o più con un'altra, ma in generale non favoriremo mai una console rispetto all'altra se non avesse una logica il farlo. E non ce l'ha nel nostro lavoro, semplicemente non ce l'ha. Il punto è molto semplice. Microsoft non deve recuperare particolarmente, perché comunque ha fatto un buono show a queste tre, ha fatto vedere ottime cose. Però è vero che a livello di mercato fare uno show che comunque colpisce di meno di quello di Sony la penalizza, perché è già indietro al momento. Questo Natale recupererà sicuramente moltissimo, perché ha dei titoli enormi. Sì, perché per quanto Sony possa essere potente, parliamo comunque mettendolo a livello di mercato mondiale… Secondo me non recupera niente, ma proprio niente Microsoft. Secondo me invece recupererà molto. Perché per quanto ne so io, Microsoft ha decisamente smesso di investire in Europa. È vero. Considera l'Europa un territorio condannato e ha deciso di piantare al livello del marketing. La cosa folle a livello di marketing è che Microsoft appunto, come hai detto, ha lasciato da parte buona parte dell'Europa, a livello di marketing non ci sta investendo più un cazzo. Sta puntando tutto sugli Stati Uniti e sulla Cina. Ma per Xbox. Per Xbox One. Per PC no. Perché sull'Europa investirà tantissimo su Windows 10. Esattamente, investerà tantissimo sul mercato PC. che è una roba abbastanza folle, ma insomma comunque la riporterà a guadagnare vendite a livello di… Non è folle, ti dico io. Allora, secondo me, adesso faccio io il pacteranza della situazione. Questa sarà l'ultima console di Microsoft. E su quello ci siamo d'accordo tutti, perché stanno puntando troppo sul PC per non spostarsi su PC game. D'ora in poi, tutto, diciamo, esaurito Xbox, che siccome ne hanno vendute diversi milioni non lasceranno andare alla deriva, ma continueranno comunque a supportare, ma esaurita la vita di Xbox One, tutto migrerà su PC. Esatto. Perché, ed è questa una notizia di ieri o l'altro ieri, non mi ricordo esattamente, forse l'altro ieri, il PC ha superato iOS come piattaforma più popolare. Esatto. Cioè, il PC, che è considerato il regno di chi di videogiochi se ne intende o comunque gli piace smanettare, avere la grafica più pompata rispetto alle console, magari metterci molto di più a configurare il gioco, ma avere dei risultati migliori, è diventata la piattaforma più popolare. Sì, è quella con più giocatori. Questa è un segnale. Una di quelle con più giocatori. Diciamo che, appunto, col mercato digital in grande crescita, l'idea di Microsoft a livello di commerciale non è assolutamente stupida, nel senso, sono sempre stati il PC, loro, e ora stanno semplicemente tornando a casa. Però non stanno abbandonando Xbox One, perché comunque... Ma è curioso, perché non so se ti ricordi il vecchio Games for Windows, che era uscito... Sì, che era un disastro. Era un disastro, ma perché avevano cercato di replicare la dashboard di Xbox 360 su PC, facendo dei casini. Esattamente, invece adesso stanno cercando di replicare la dashboard di Windows su Xbox, quindi stanno facendo l'esatto contrario. Esattamente il contrario. Il punto è che, abbandonando i territori europei, stanno puntando tutto sul mercato americano. Però non puoi dirmi che il mercato americano, con roba in uscita come quella, non mi fa un botto, perché al momento PS4 e Xbox One sono lì, sul mercato americano, che prima era dominio total di Xbox. Nel momento in cui esce Halo, esce Tomb Raider, esce Forza, il mercato americano torna tutto Xbox. Magari è una cosa momentanea, però comunque si parla di qualche milione di soldi guadagnata in più. Dice, commenta TheSmite dalla chat dicendo che su PC non si vende perché sono tutti pirati. Allora, la pirateria c'è. C'è, ma si è limitata molto con l'arrivo dei Steam e affini. Digital Delivery si è ridotta molto e non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è un posto con tanti pirati. Molte regioni del sud Europa sono regioni con tanti pirati, ma in generale la pirateria è un fenomeno meno grande di quanto si possa pensare guardandoci i nostri panni sporchi. Conoscendo TheSmite però era ironia probabilmente, penso l'abbia buttata sulla battuta. Il punto è che… Era ironico. Esatto, era ironico, immaginavo. Vai a cagare. Vedi, non conosci i nostri utenti fideli. Il problema è che io non la capisco l'ironia, te l'ho detto solo come Sheldon Cooper. L'ironia scritta funziona poco in realtà. Magari se ci mettevi una faccina era più facile. Neanche con le faccine funziona, ma comunque… Magari scrivi ironia mode on, così capisco. No, il mercato PC si allarga sempre di più e quindi Microsoft sta facendo una cosa furba, però comunque a livello di mercato natalizio dominerà su PlayStation con i titoli che ha. E anche in Europa comunque avrà un rigodagno, perché magari puntano a zero sul marketing, ma quando è un negozio in periodo natalizio sullo scaffale PS4 vedi Until Dawn e dall'altra parte vedi Halo, vedi Forza, vedi coso, comunque qualche vendita la fai anche a marketing zero. È chiaro che poi per il 2016 sarà tutta un'altra storia. Abbandonare completamente il mercato europeo senza degli aviters in grado di contrastare quelli di Sony sarà una cazzata magistrale. Il punto è, penserà Microsoft a cercare di riprendere terreno anche dalle nostre parti o abbandonerà del tutto il mercato da queste parti? Eh, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, però è difficile dare una risposta perché non siamo nel cervello di quelli di Microsoft. Io spero chiaramente che decidano di reinvestire sull'Europa perché, ripetiamo ragazzi, noi vogliamo la concorrenza. Noi, la concorrenza del nostro lavoro fa bene, fa in generale bene perché la concorrenza costringe tutto a crescere, le console a crescere. Noi vorremmo una situazione paritaria tra tutte le console. È chiaro che non possiamo prevedere cosa succederà dopo PS4, Xbox One e Wii U. Non sappiamo quali saranno le piattaforme in gioco, quali saranno i produttori, se si inseriranno altri sfidanti, se verranno abbandonati gli sfidanti e altre cose. Possiamo tirarla un po' a caso. Fatto sta che noi vorremmo una situazione di parità perché è quella che fa più comodo anche a noi e fa più comodo al gaming in generale. Certo, la situazione adesso è questa, cioè con Sony che in Italia ha l'80% del mercato, che è una cosa impressionante, 80%, 8 console su 10 vendute sono console PS4, una e mezzo è una Xbox One e l'altra mezza è una Wii U. Sì, no, il mercato italiano è completamente di Sony a livello di console e il resto è minoranza, che è una cosa... Ma la cosa assurda in tutto questo è che Sony adesso potrebbe tranquillamente smettere di fare pubblicità, investire, eccetera, direttamente ormai il mercato è nostro, invece Sony continua a spingere mentre Microsoft non ha mai spinto. Esatto, infatti è quella lì la cosa intelligente perché il fatto è che non puoi bloccare il marketing. Cioè guardate Vinci, l'avete mai visto una pubblicità dell'Xbox One? Non intendo una pubblicità di un gioco, ma una pubblicità di Xbox One. Il fatto è che Sony continua a spingere perché lo sa che è una furbata, perché nel momento in cui tu smetti di fare marketing, anche a livello comunque non solo di mercato generalista, ma anche di mercato specialista, perdi colpi, comunque, indipendentemente da tutto, si abbassano le vendite, si abbassa tutto quanto, invece tu devi comunque pubblicizzare i giochi sia alla massa che a quelli che sono informati, perché se non lo fai poi diventa stagnante il mercato, anche se sei tu il dominatore, quindi il marketing non lo dovresti mai stoppare, è chiaro che se dall'altra parte invece il marketing è zero, hai ancora vita più facile. No, è tutto qui, ripeto, noi non abbiamo preferenze, però appunto questo era tutto il discorso di base. Il punto è che alla Gamescom Microsoft ha già degli av-eaters non indifferenti, bisogna vedere se ha anche degli assi della manica per fare un eventuale sorpassone, perché la Gamescom, come ben sai, tutto sto discorso serviva a dire che la Gamescom è una manifestazione principalmente europea, che va fortissimo sul PC e va mediamente forte sulle console, infatti di solito Valve e Blizzard vanno alla Gamescom e se ne fottono il cazzo delle tre, e penso che anche quest'anno sarà così, nel senso che Microsoft… Sì, ma come sempre faranno le prime donne, non si vedrà niente, però ci saranno, perché loro devono… perché comunque lì c'è il pubblico PC, principalmente perché in Germania va fortissimo il PC. Non ha capo un stand di farming simulator in Germania? Chiaro, va che è una meraviglia. Ma sono serio, è grandissimo. È chiaro che anche Microsoft comunque andrà molto forte sul PC alla Gamescom, ma con l'Xbox One sappiamo già che ha dei titoli che colpiscono duro. Lì sarà la dimostrazione della loro volontà di abbandonare o meno il mercato europeo, perché se colpiscono duro alla Gamescom e hanno una risposta positiva, forse un po' si ripigliano e ricominceranno anche a investire. A proposito di investimenti e terzi incomodi, c'è la domanda di Epo, che dice la Nintendo ha fatto un brusco cambio di rotta negli ultimi mesi annunciando la NX, che in realtà non è proprio stata annunciata, però diciamo che sappiamo che è in lavorazione un'altra console. Le notizie sono fumose, ma cosa ne pensate della scelta di puntare su una nuova console invece di sfruttare meglio i giochi in uscita per Wii U, compreso Zelda? Allora, il punto è piuttosto semplice. Wii U ha ancora una line-up in arrivo abbastanza promettente, con dei titoli di un certo livello. È chiaro che nel momento in cui la line-up di Wii U è composta fondamentalmente quasi esclusivamente da first party e non ha praticamente third party, e punta tutto sulle esclusive, lo show che c'è stato alle tre di Nintendo ha demoralizzato moltissime persone, anche perché Nintendo stava recuperando, stava riguadagnando terreno, stava riappassionando moltissima gente, stava riguadagnando anche a livello di numeri, perché 3DS vende come il panel Wii U, stava comunque crescendo grazie ai titoli notevoli che erano arrivati, e poi con quelle tre lì ha mandato un po' tutto quel paese, perché come al solito si sono comportati da alienati che non capiscono il mercato, soprattutto quando si tratta di show in pompa magna, perché di norma alle tre Nintendo non brilla particolarmente, tranne alcuni rari casi. avevano la possibilità di tirare un paio di bombe, non l'hanno fatto, questo non significa necessariamente che Wii U sia morta, ok? Però è chiaro che c'è qualcosa che si sta muovendo a livello di Nintendo per la nuova console, e che molte delle loro risorse sono impegnate anche su quel progetto lì. Ora, la Wii U non possono abbandonarla totalmente, perché sarebbe uno smacco nei confronti dei giocatori, e Nintendo, ok, sul marketing non è proprio furbissima, ma lo è abbastanza almeno da capire che non puoi dargli, fondamentalmente dirgli un gran vaffanculo a quelli che ti hanno supportato. Sì, però l'hanno capito tutti. Eh sì, l'hanno capito bene o male tutti, però infatti loro lo negheranno fino al... Sicuro, fino a che non annunciano NX. Finché non annunciano NX. Ora bisogna vedere in cosa consiste questa NX, qual è il loro progetto, cosa hanno intenzione di fare, bla bla bla. È chiaro che Wii U, nel caso dovesse morire veramente l'anno prossimo con l'arrivo di NX, sarà una console che è stata abbandonata dopo tre anni e mezzo, con degli ottimi titoli nella line-up. Personalmente, ripeto, il mio acquisto di Wii U io lo ritengo più che sensato, perché mi ha permesso di giocare a giochi notevoli, e stanno ancora per arrivare a dei titoli che hanno il potenziale per essere eccezionali. Fatto sta che è chiaro che uno che vuole il gaming tutto l'anno rimarrà deluso probabilmente della line-up di Nintendo 2016, perché tutti sono i titoli... cioè, se uno ha dei gusti specifici, magari che cazzo non sono, gli piacciono i GRPG e quindi non può basarsi su Xenoblade Chronicles, cosa gli rimane? Cioè, gli rimane Mario Maker, che è molto figo, ma magari non gli piacciono i platform, ok che se hai Wii U e non ti piacciono i platform è una cosa un po' insensata, però magari non gli piacciono molto i platform, e cosa hai? Hai i titoli dell'anno scorso, hai il nuovo Zelda e hai Star Fox. Ammesso che il nuovo Zelda arrivi su Wii U e non lo migrino su NX. quello l'ha già confermato, ha già confermato che arriverà su Wii U. Il dubbio sta nella possibilità, come dicevamo qualche giorno fa, che possa essere un titolo cross platform. Come lo era Twilight Princess, che fu su Gamecube e Wii. Esatto. Una cosa del genere è il tipo che lo fanno per Wii U e poi lo portano anche su NX. Quella differenza è che su Gamecube un link era mancino, come è sempre stato, e su Wii è diventato destro, perché il gioco era pensato per utilizzarlo con la mano destra. Ma sì, vabbè, non ti preoccupare. Lo sentiamo, si fruscia. Sì, ogni tanto frusciano le... E allora, sulle vostre pagine, dice... V-Track, W-Track 4, ho recentemente letto di un rumor riguardante la presunta acquisizione di AMD da parte di Microsoft. Che ne pensate? Allora, quello che dicevamo, l'acquisizione di AMD da parte di Microsoft è una possibilità. Sarebbe interessante, perché fondamentalmente... Allora... Ogni PS4 prodotto... Aspetta, aspetta un po'. Che cosa... Io te la butto lì. Alla GDC ho visto Yoshida che si scambiava gli orologi, tipo Luciano Moggi col presidente di Nvidia. Non è che qualcosa sta bollendo in pentola? Non lo so, però sarebbe piuttosto curiosa. Però realmente l'ho visto scambiarsi gli orologi. Sì. Magari sono due appassionati di orologi. Magari, non lo so. O magari hanno qualcosa in ballo. Fatto sta che di sicuro ci sono degli accordi in ballo, però ricordiamo che AMD produce i chip delle console, PS4 e Xbox One. Sì, certo. Sarebbe divertente se AMD diventasse di Microsoft e PS4, cioè Sony dovesse pagare una percentuale a Microsoft per ogni console prodotta, perché... Sì. Però è chiaro che sarebbe un investimento non indifferente, dopo che comunque si sono già comprato una robetta chiamata Minecraft e gli ha costato 2 miliardi di euro. Insomma, Microsoft ha tanti soldi, ma io non credo che abbia i soldi infiniti. Non so se si è disposta ad investimenti così giganteschi al momento per puntare sul mercato console, ma anche se puntasse sul mercato gaming, ora come ora, vale la pena puntare tutto su AMD quando Nvidia ha un vantaggio così grosso? Eh, questa è una bella domanda. Certo, è chiaro, nel momento in cui AMD diventa di Microsoft, Microsoft e Windows, Windows è il computer fondamentalmente, AMD prenderebbe un bel passo avanti con questa cosa qua. Però ricordiamoci, ragazzi, che sono tutti rumor e che non possiamo prevedere al momento quali siano le mosse commerciali di Microsoft a livello di gaming, possiamo solo spararla lì. Di certo è una possibilità, però non so dirvi, perché al momento credo che Microsoft sia comunque molto concentrata su Windows 10, sul fatto che sia la loro prima piattaforma mezza free, perché comunque la stanno dando tutti quelli che avevano i vecchi Windows gratuitamente e è difficile dire come si muoveranno in futuro. Al momento è abbastanza imprevedibile Microsoft da tutti i punti di vista. Allora, poi molte persone hanno chiesto di Shenmue 3, in particolare dicendo se ci sembra un buon sistema quello del crowdfunding e se inoltre, per esempio, Petrolik27 chiede se giochi apparentemente abbandonati come Beyond Good and Evil 2 potrebbero trovare nuova vita attraverso il crowdfunding. Allora, il punto è molto semplice ragazzi, il crowdfunding per il AAA è una mezza illusione, dico mezza perché è il motivo per cui io ritenevo che Shenmue 3 fosse impossibile prima di vederlo presentato da Sony all'E3, che poi alla fine non si è rivelato il gioco ma si è rivelato il crowdfunding, comunque è estremamente importante. Il punto è, un progetto come Shenmue 3 non può campare su 4-5 milioni di dollari a livello di sviluppo, è qualcosa di molto più ambizioso, cioè se vuole fare adesso quello che fecero i predecessori avrebbe bisogno di qualcosa come 40-50 milioni di dollari minimo e sarebbero anche, non dico pochi, ma forse non abbastanza, ok? I finanziamenti si sono fermati sui 5 milioni di dollari circa, hanno preso tutti i goal iniziali, adesso hanno alzato i goal ma non arriverà a 10 milioni di dollari praticamente di sicuro e secondo molti non sono abbastanza soldi per creare il titolo che tutti si aspettano. È la verità, è semplicemente la verità, non sono abbastanza soldi. Quello che c'è stato, che ha bloccato anche un po' i finanziamenti, è stata tutta la roba l'osca legata al rapporto tra Sony e Yu Suzuki, ovvero il fatto che lui l'ha lanciato su Kickstarter e poi sono venute fuori le voci che in realtà era semplicemente una roba per tastare il terreno, vedere quanto era l'interesse del gioco e poi il finanziamento sarebbe stato di Sony. Ma certo. Hanno poi chiarito in realtà che Sony paga solo il marketing del gioco, cioè fa solo il marketing del gioco, che dire solo è relativo perché il marketing di un gioco è tipo il 40% del costo, esattamente. Quindi può essere una roba tipo 20 milioni di dollari il marketing di un gioco, non è una roba da poco. È chiaro che probabilmente loro col Kickstarter si aspettavano di arrivare almeno 15 milioni di dollari, se non ci sono arrivati perché l'hanno comunicata un po' male. Quel che è certo è che secondo me quei soldi non bastano, quindi sono un po' dubbioso su Shenmue 3. Chiaro che lo voglio rivedere, come tutti lo vogliamo rivedere, però è davvero possibile con 5 milioni di finanziamento su Kickstarter e il marketing pagato da Sony? Secondo me no. Secondo me a quel punto lì Sony ci deve mettere lo zampino e fare il passo lungo e dire ci mettiamo anche i soldi dello sviluppo. Ma anche lì è plausibile che Shenmue 3, con i finanziamenti che già ha avuto su Kickstarter, abbia presa su abbastanza giocatori da confermare la sensatezza di un investimento simile. Ora ragazzi, tutti noi conosciamo Shenmue e molti di noi ci hanno giocato, molti di noi lo ricordano con amore, ma anche molti di quelli che sono sul sito non hanno mai avuto modo di giocarlo, perché vi devo ricordare quante Dreamcast hanno venduto? Non sono state molte. Quindi quanta gente ha effettivamente giocato Shenmue al giorno d'oggi tra i videogiocatori? Una minuscola percentuale, se vai a contarla. Però è un titolo di grande richiamo. Mi pare che quella minuscola percentuale abbia comunque fatto abbastanza rumore per spingere un progetto del genere. Ma infatti è un titolo che fa molto rumore, che viene chiaramente citato tra i migliori in assoluto, molti l'hanno giocato per Via Traverse, molti lo hanno conosciuto per Via Traverse, ma non è un nome di grande richiamo, è tutta lì. E investire un centinaio di milioni di dollari su un progetto che probabilmente se te ne riporta 40 a casa è tanto, non è proprio una cosa brillantissima a livello marketing, è più un fattore di immagine. Sony ha puntato moltissimo sull'immagine più che sui fatti a queste tre. L'ha fatto brillantemente, per carità, però... Cioè, oddio, poi in realtà ha anche i fatti, perché roba come Horizon, Uncharted 4, roba come il remake di Final Fantasy 7 e Street Fighter V, comunque non sono robe da poco, hanno dei titoli con i controcazzi e ne arrivano nel 2016 Sony, guarda Uncharted 4 quella ha detto da 15 minuti, però è vero che non è un investimento facile da fare, che erano poi tutte le motivazioni che, ripeto, mi portavano a dire che Shenmue 3 è impossibile. Ora però che Shenmue 3 è possibile, come uscirà? La chiuderà bene questa trilogia o sarà una delusione terrificante? Il problema è quello che molto spesso ci dimentichiamo dell'effetto... Boomerang! No, ma proprio di come cambia la nostra memoria dei giochi. Cioè vi rigiocate un gioco di dieci anni fa che all'epoca vi sembrava la roba più bella del mondo e lo trovate incredibilmente invecchiato. Esattamente. Il concept di Shenmue secondo me è un concept abbastanza vecchio. Però è aggiornabile, ma con risorse notevoli. Però è aggiornabile con risorse notevoli e anche andando a modificare un po' quello che era la sua natura iniziale, secondo me, perché è un titolo tutto basato sui QTE. Certo, la maggior parte delle persone... Oddio, adesso chiaramente cambierebbe quasi completamente a livello di gameplay base, però anche lì... Perché è un po' lo stesso discorso di Final Fantasy VII. Io sono preoccupato per il remake di Final Fantasy VII perché se diventa un remake con il gameplay aggiornato alla contemporaneità e quindi con lo stesso gameplay di Final Fantasy XV per dire, la cosa mi creerebbe delle grosse preoccupazioni. Sì. Perché io in un remake vorrei trovare quella giocabilità del passato e ributtarmici dentro. Sì, il punto è anche lì, capito? L'altro problema dei titoli del genere è che il fattore nostalgia è molto potente nei fan che lo desiderano. Cambiamenti estremi alla struttura possono portare a un disastro a livello di fan rage, insomma. Il punto è che sono necessari perché, ragazzi, come dico sempre, alcuni giochi vecchi sono invecchiati da Dio e a livello di gameplay sono ancora geniali oggi e brillanti oggi, ma non tutto invecchia bene. Ce lo ricordiamo magnifico perché lo abbiamo giocato in un periodo in cui eravamo molto meno desensibilizzati, molto meno ben abituati e molto più propensi alla scoperta. Cioè, vedevi una cosa ed era nuovo, era fantastico, non l'avevi mai vista prima. Oggi hai visto tutto, capito? E' vero che i videogiochi in certi elementi sono peggiorati. Guardate il caso di Portal. Quello è proprio un caso tipico. Portal è uscito, ha stravolto in qualche modo i puzzle game in generale. Quanti cloni di Portal sono usciti? Un bordello. Adesso quando esce un gioco e si scrive che ricorda Portal, l'interesse già va sotto i tacchi perché è assolutamente un concept che è stato sfruttato troppo. E lo stesso avviene con molti altri progetti. Andiamo avanti con le domande perché sennò ne leggo solo due. Sono arrivati un sacco di domande sui titoli delle tre. Che cosa pensiamo di questo? Che cosa pensiamo di quello? Possiamo fare una carrellata lunga per scoprire tutto, possibilmente. Allora, partiamo con For Honor. For Honor a me piace un bordello. Mi piace anche tantissimo perché ci sono i vichighi che spaccano tutto con le asce sfruttate. È una figata fottuta. A livello di combattimento vorrei capire di più del gameplay perché mi sembra carina l'idea di base del direzionale imparata in attacco. Vorrei capire se ci sono manovre complesse perché ho visto un guard break, ho visto delle spinte. Per il momento è abbastanza semplice. Per il momento è abbastanza semplice. Credo lo renderanno molto più completo e complesso soprattutto quando introdurranno le altre armi. Perché nel gioco si vede che combattono solo con le spade per il momento. In realtà nel video si vede che c'hanno l'alabarda, si vede che c'hanno le asce, si vede che c'hanno la mazza. Io mi fido abbastanza della tamarraggine dello sviluppatore. Assolutamente. Penso che si avvicinerà molto a un Chivarry più arcade. Possibile. Quindi che le armi avranno effetti molto diversi. Con però i combattimenti melee che sono completamente diversi. Sì, con i combattimenti melee e la visualità della terza persona. Cosa succede se interviene un terzo giocatore in un combattimento melee? Esatto. Secondo me non è possibile. No, secondo me è una possibilità in realtà ma semplicemente non puoi pararlo se ti arriva dietro. Va bene. Fatto sta che appunto mi interessa molto, bisogna vedere come si evolverà a livello di gameplay. Però mi piace un sacco, l'idea mi ha ispirato tantissimo. Che tipologia di gioco vi aspettate da Ricore? Ricore io credo che sarà una sorta di action adventure alla enslaved. Nel senso che avrà elementi action e elementi puzzle, molto marcati in entrambi i casi. Gli elementi puzzle chiaramente dipenderanno probabilmente da dove infilerai quel core energetico all'interno di quale robot. Mentre gli elementi action probabilmente dipenderanno dai combattimenti con i robot più grossi e cose varie. Sono sicuramente interessato di vedere come se lo gestiscono. C'è Keiji in Afune dietro, su cui ho già espresso i miei dubbi ultimamente. Perché ricordiamo che dopo che sono andato da Capcom in realtà non è che abbia fatto dei gran capolavori in Afune. Però è anche vero che questo non significa necessariamente che debba fare per forza un brutto gioco. Specialmente l'idea di fondo è molto interessante. Magari non commerciale, ma quello non è l'importante. L'importante è che sia un titolo di una certa qualità. E poi c'è HellRiser che chiede di Halo 5. Halo 5 a me ispira tantissimo, l'ho già detto moltissimo. Io ho giocato soltanto la parte online, la nuova modalità. Sì, allora a me ha divertito molto Halo 5. Nel senso che quando l'ho giocato la beta mi ha divertito tantissimo, è cambiato in meglio il gameplay. Secondo me l'hanno velocizzato tanto. L'hanno reso più simile ad un Arena Shooter. Ha ancora i suoi problemi storici. Aspetta però perché quella modalità che ho giocato io che è un po' alla Battlefield se vogliamo. Cioè con mappe veramente molto molto grandi e la presenza dei veicoli e i bot. Quindi c'è dentro anche un po' di Titanfall se vogliamo. L'ho trovata fresca. Ma in realtà l'hanno rinfrescato tutto. E soprattutto non hanno fatto la cacchiata che a mio avviso stanno facendo tutti gli shooter di velocizzarsi troppo. Esatto. Cioè il gioco è veloce ma è sempre piuttosto tattico. E comunque c'è da dire che... No, perché se lo confronti a Call of Duty... Si è meno rap... Oddio, è più ragionato. Esatto. Ricordiamoci che Halo è figo perché è uno dei pochi shooter dove hai gli uno contro uno reali. Cioè non è un ti vedo sei morto. È un ti vedo ok, ora ci ammazziamo. Ci si mette un po'. Tra l'altro è molto tattico, è molto di squadra, è molto intelligente da tanti punti di vista. Poi chiaro lo puoi giocare anche alla Carlona, però è un titolo che su console è stato gestito proprio bene. che è migliorato in moltissimi fattori a livello di abilità degli Spartan, a livello di velocità del movimento adesso, a livello di gestione della mira in aria che ti blocchi in aria quindi sei invulnerabile ma adesso puoi colpire l'aria. Sì. Insomma, sono state fatte molte cose positive su Halo 5 e anche nella campagna perché adesso hai i compagni e puoi dargli degli ordini e penso che la potrai giocare anche in cooperativa anche se si pensa che non ci sarà lo split screen ma soltanto l'online. Quella sarà una perdita per molti giocatori che hanno amato Halo anche per il fattore di poterlo giocare in locale. Però non è ancora detto insomma, lo bisognerà vedere. Mi ispira tantissimo, credo che sarà un ottimo gioco. Ora bisogna vedere fino a che punto saranno riusciti ad evolverlo. E poi sapevo che ci sono anche domande su Battlefront. Sì. Su Battlefront. Allora, Battlefront... Tu continui ad avere dubbi. Io ho dei grossi dubbi ma i miei dubbi non sono legati al fatto che, non lo so, mi sta sul cazzo da Ice o cose... Sono legati semplicemente all'osservazione del gioco. Ora, parliamoci chiaro ragazzi. Quella grafica su console richiede dei sacrifici, ok? Io sto guardando buona parte degli articoli sull'E3. Ok? Sto guardando buona parte degli articoli sull'E3. Sono tutti esaltati come delle mine per Battlefront. Perché? Perché vedi quel cacchio di filmato e dici, santi Dio, è la grafica che abbiamo sempre voluto in un gioco di Star Wars. Che figata! Possiamo rivivere le battaglie di Star Wars eccetera eccetera. La maggior parte delle persone lo guarda così e ha tutte le ragioni del mondo per farlo. C'è Darth Vader, c'è Boba Fett, ci sono le mappe fighe, ci sono i laser. Che figata! Ok. Ora però andiamo a vedere gli elementi interni al gioco, ok? Cose positive, cose positive. Sono liccati gli elementi delle opzioni grafiche del videogioco. Su PC il Field of View è 120. Quella è una cosa molto positiva. Su console quanto sarà con quella grafica? 70? 80? Non lo so. Quanto potrà essere con quella grafica su console? 75? Sicuramente sì, una roba del genere. Quanto potrà essere? Quanto sono grandi quelle armi sullo schermo? È probabile. Altro fattore che nessuno ha detto più. Quei cazzo di proiettili sono laser. Veloci, ma sono laser. Vuol dire che ogni proiettile ha un delay. E certo. Vuol dire che ogni tipo di arma non ha una rosa. Ha i laser che variano la velocità del colpo e vanno dritti. E tu non hai le classi in quel gioco. Quindi? Quindi non hai varietà. Tu dici? Nelle rose. Nelle armi. Nelle classi. Se hai sempre lo stesso tipo di sparo. Ora, ripeto, voglio vedere... Magari faranno lo shotgun laser. Che sarebbe una puttanata in Star Wars. Sarebbe una puttanata, però bilanciano i giochi. Ma poi magari lo mutano effettivamente. Mutano effettivamente le armi. Mutano effettivamente le cose. Ora, io non vado ad addentrare... Non sto andando ad addentrarmi sul fattore dei contenuti su cui si è già discusso ampiamente. sul fatto che è un gioco quasi solo multiplayer con missioni fisse o altre robe. Anche perché sono convinto, scusami, ci ho sempre pensato. Allora, quando quelli... I Jedi fermano il laser con la spada laser. Sì. No, loro danno un colpo e fermano un colpo. Esatto. Se io andassi lì con un fucile a pallettoni, se ne spara 45. Esatto. Lo ammazzo. Quindi io fondamentalmente... Vabbè, li ferma con la forza, però fa così... Ma allora perché non ferma i laser con la forza, scusa? Sono laser! Laser... Non puoi fermare il laser con la forza, su. Dai, adesso non andiamo sulla scienza. No, il punto è... Basta prenderne due, uno davanti, uno dietro. Ma il punto è, se tutti i proiettili sono laser, le rose non si diversificano e c'è un delay nei colpi. Perché i laser, per quanto veloci, hanno comunque un delay. Cosa puoi fare per rendere il gioco buono? Se c'è un delay dei colpi, tutti i colpi sono uno skillshot, se i personaggi si muovono troppo velocemente. Quindi io credo che a DICE non sono deficienti e abbiano gestito il movimento dei personaggi avversari in base al delay dei laser. In modo che non siano eccessivamente veloci e possano venire colpiti anche così, senza troppe difficoltà. Cosa assennata. Ma in quel momento lì hai limitato la velocità del gioco. Limitando la velocità del gioco, siamo sicuri che con quella varietà lì il gioco sia divertente? Mhm. Se poi su console consideriamo che il field of view sarà sicuramente molto più basso del normale e quindi la velocità si diminuisce ancora e in più le battaglie sono 40 persone, non più 64. Sì. Iniziano ad esserci tante cose che non vanno in questo shooter. È per questo che io non sono convinto, ragazzi. Cioè se io non sono convinto di un gioco non è perché mi sta su cazzo uno sviluppatore o qualcosa, è perché guardo le meccaniche e qualcosa non mi convince. Ora, è quello che mi piacerebbe facessero tutti i miei colleghi, a quanto pare non è così, perché dalle tre sono usciti tutti esaltati come delle mine e batte il fronte al gioco della vita. No, guardatelo quel cazzo di gioco. Magari lo è, magari esce, mi smentisce su tutto, magari esce ed è il gioco della vita. Magari esce, lo provo ed è il gioco della vita. È bellissimo, è meraviglioso, hanno fatto tutto la perfetta. Io ci ho provato a provarlo, non ci sono riuscito. Esatto. Cioè, però ripeto, io ho dei grossi dubbi su tutto quello che vedo. Se mi fai provare una roba è meglio. Ora, io dubito fortemente che avrò modo di provare Battlefront per svariate ragioni. Fatto sta che ho dei dubbi a riguardo di quel gioco lì. E dovreste averli tutti, ma non solo su Battlefront in generale. e anche i miei colleghi dovrebbero averli tutti. Perché ricordatevi, ragazzi, che... Però tu non l'hai ancora provato, chi lo ha provato... Dice che è figo. Boh, però io non ho ancora visto un'analisi dettagliata. Su un cazzo di sito non ho ancora visto un'analisi dettagliata. Beh, la demo che comunque hanno fatto provare non permetteva un'analisi dettagliata ancora. Ma almeno provateci, esprimete dei dubbi. Non ne ho vista mezza, raga. La cosa che mi dà fastidio è sempre questa. Cioè, io ve lo dico sempre, ragazzi. Io non voglio, non me ne frega un cacchio che siate d'accordo con me, oppure no. Cioè, non mi interessa che la pensiate come me, sui videogiochi. Mi interessa che pensiate. Punto. Cioè, mi interessa che guardiate un gioco e diciate. Guardiate un gioco e diciate. Questo gioco è così, 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 così. In base ai miei gusti e alle mie conoscenze, secondo me è una figata, secondo me non è tanto una figata. Ho dei dubbi. Ti consiglio di guardarti i video dell'Alpha su YouTube? Li ho guardati. Tutti i miei dubbi derivano da lì. Va bene. Tutti i miei dubbi derivano da lì. Non so che altro aggiungere. È tutta lì. Per carità sembra una figata a livello visivo, però è il gameplay che non mi convince. È tutto lì, ragazzi. Cioè, magari poi lo guardate e dite, ma secondo me è una figata eccezionale. E ripeto, poi magari lo provo, è una figata eccezionale. Allora, l'ultimo Battlefront credo che incassò un metascore di sette e mezzo. secondo me c'è margine per fare meglio di Battlefront 2. Sì, sicuramente. C'è molto margine. Ma infatti hanno cambiato completamente strada la Battlefront 2. Non è Battlefront 2 questo gioco, è un altro gioco completamente. da tutti i punti di vista. Questo non è Battlefront 3, è un nuovo Battlefront. Pensato per essere un'esperienza principalmente multiplayer. È un gioco diverso. Questo non significa necessariamente che sarà peggiore. Però non mi convince. Non mi convince e, ripeto, se fosse stata la DICE dopo Bad Company 2, avrei gridato probabilmente anch'io, faranno un capolavoro. No, questa è la DICE dopo Battlefield 4. Col cazzo che grido il capolavoro. Io sono convinto che ci sia margine per fare un buon gioco. Assolutamente. Quanto si è visto finora, per lo meno dal punto di vista del fanservice, è roba per cui i fan di Guerre Stellari baceranno per terra. Incredibile lavoro della Madonna. Io sono convinto che se uno è fan di Guerre Stellari, a prescindere dal fatto che il gioco sia tecnico o poco tecnico, con un gameplay profondo o meno profondo, lo prenderanno. Sì, sì, sì. Ma io non ho dubbi che sarà un successo commerciale. Loro si sono assicurati un successo commerciale. Gli sarà costato anche un patrimonio. Certamente. Però sarà un successo commerciale di sicuro. Ma sarà un buon gioco? Io l'unica cosa che sono interessato a sapere è questa. Ok. Sarà un buon gioco? A proposito di buoni giochi, prima di passare alla chat, parliamo anche dei grandi annunci, cioè Fallout e Doom. Sì, sì. Beh, allora, Doom... Su Doom ho dubbi simili a Battlefront. Nel senso, Doom mi ha esaltato per un semplice fattore. I fan di Doom a ID chiedevano due cose a ID. Sangue e merda. Noi vogliamo Doom che sia sangue e violenza. Falta e fiction. Sangue e devastazione. Falta e fiction. Sangue e merda. Vogliamo un Doom che sia violento, sia cattivo, sia veloce, sia come i vecchi. Sia incazzato. Sono delle armi grossissime la roba che esplode. E i demoni che ti fanno un culo così se non stai attento. E quello che si è visto è esattamente quello. Sangue e merda. Vai con la stessa cadenza di Doom nei movimenti, con pattern variati dei nemici che però non sono poi così dissimili. Armi incazzate come una bestia che spaccano tutto. Il fucilozzo che spacca tutto. È esattamente quello che volevano i fan. Ora i dubbi. La velocità è inferiore a quella dei vecchi Doom. È alta. È molto elevata. Ma è inferiore a quella dei vecchi Doom. Secondo dubbio. Le armi sono gigantesche in quella schermata. Terzo dubbio. Le esecuzioni. Sono veramente implementate in modo così veloce? Si utilizzano davvero così? Annoieranno dopo un po'? Saranno una rottura di balle dopo un po'? Hanno un'utilità interna al gioco. Altro dubbio. Quella struttura lì. Quella dove vai, ammazzi, vai, ammazzi, vai, spacchi, vai, ammazzi. Per un tot di ore in uno shooter single player può ancora divertire? Mhm. Perché Wolfenstein ha fatto un reboot della Madonna della serie. Però per farlo cosa ha fatto? Ha messo due approcci differenti. Ha messo una narrativa della Madonna. Andavi avanti perché? Perché volevi sapere come andava avanti alle storie. Perché avevi più approcci alle missioni. E quindi una certa varietà a livello di gameplay. Doom può fare la stessa cosa? Se lo metti a zero in narrativa non è detto. Quindi non è detto che anche quello sia un gioco della Madonna. Però lo aspetto con impazienza anche lui. Perché voglio sapere se sarà un bel gioco. Lo so, beh fa lo stesso effetto di Wolfenstein. Secondo me sarà un buon gioco, molto buono. Credo anch'io. Vecchio stile con molti richiami al passato. Certo, però devono metterci anche delle innovazioni concrete che ti permettono di aggiornare il gioco al 2015-2016. Secondo me non lo faranno. Ma non sono completamente negativo nei confronti di questa cosa. Cioè io mi aspetto veramente un gioco molto molto tamarro e poco altro. E a me va bene così, nel senso. No, no, no. Ma esatto. Però a sto punto gioca Shadow Warrior 2. Per carità. Quello lì spacca veramente il culo a livello di gameplay, eh. Per carità. Quello lì spacca davvero il culo. Però c'è l'editor delle mappe che dovrebbe in qualche modo... Sì, sì, sì. Portare... È vero. Cioè, quantomeno mi aspetto una serie di contenuti che non avremmo visto altrimenti. Assolutamente sì. Per quanto riguarda invece Fallout, quanto si è detto in merito alla grafica del gioco, secondo me sono delle puttanate proporzioni epiche. Allucinate, vabbè, ma... Perché il gioco... Andatevi a vedere Fallout New Vegas che ci sto giocando in questi giorni e graficamente siamo comunque un passo molto indietro rispetto al trailer che si è visto di Fallout 4. Quindi non venitemi a dire che ha la stessa grafica dei Fallout 3 e Fallout 4. No, assolutamente no. È una cosa assolutamente falsa. Assolutamente no. Il punto è che Fallout non ha mai puntato sulla grafica, il motore quello è e fino a un certo punto arriva. Il punto è che, ragazzi, questi non hanno chiaramente puntato sul comparto grafico. Cioè, se avete visto quella cacchio di demo, hanno puntato sui contenuti. Porca miseria. O, costruisci i villaggi. Esatto. Costruisci i villaggi. E ci sono anche operazioni logiche di costruzione di questi villaggi. Cioè, si possono creare le trappole. Le trappole, le torrette difensive diventano una sorta di tower defense contro i mutanti. Esatto. Cioè, puoi fare le, come cacchio si chiamano, mettere le luci fondamentali di diverso colore, fare le insegne luminose, come cacchio vuoi. Ma non solo, hai una personalizzazione delle armi che è allucinante. Cioè, parti da una pistola e fai un cannone a ripetizione. Farti da una fionda e arrivi a un lancio a testate nucleari. È una roba impressionante. Al che, ripeto, a me Fallout 3 piace meno degli isometrici. Perché io sono un uomo che amava molto gli isometrici. Fallout 3 mi è piaciuto di meno. Il punto è che Fallout 4, quando ho visto cosa cacchio puoi fare, ci sono rimasto anch'io. Perché hanno migliorato la cosa peggiore di Fallout 3, che era lo shooting in prima personale di fuori del... Del sistema... Spub. Vuoto di memoria, sistema... Spub. Spub. Bravo. No, io lo so in inglese. Quindi è un'altra sigla in inglese. Il sistema... Me lo diranno dalla chat. Mi sono dimenticato come si... Qual è la sigla inglese del sistema che ferma il tempo in Fallout, fondamentalmente, e mette le percentuali. Adesso te lo dicono tutti in chat, arriveranno 200 minuti. Sì, adesso me lo diranno... No, Spub è in italiano. Vaz. Bravo. Vaz. 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 Fragolino e... Radum. Me l'hanno detto. No, sì. Sistema Vaz. Quindi si hanno migliorato anche lo shooting. Poi hanno aggiunto altre cose. Poi a livello di questline saranno sicuramente molto più elaborate cose varie. Insomma Fallout 4 mi ispira una cifra. Bethesda poi ha presentato anche Tisoner 2, che secondo me sarà un more of the same con delle novità legate al nuovo personaggio. Ma questo non è un male perché Tisoner è un gioco della Madonna. Insomma, Bethesda ha una line-up con i controcazzi. E poi dalla parte di Microsoft, come abbiamo detto, c'è il nuovo titolo di Rare, che è stata una mezza delusione solo per i nostalgici in realtà. Perché in nostalgici si aspettava un nuovo battle, comunque un nuovo Banjo-Kazooie. In realtà questi sono usciti con un gioco completamente diverso. Per me, in realtà, non è una delusione dell'ambientazione, perché l'ambientazione filartesca è una figata e l'idea di fondo è una figata. È il fatto che sembra essere un MMO. E questo ti preoccupa? Moltissimo, perché il genere è quasi morto. Addirittura. Sopravvivono tre o quattro titoli grossi in quel genere. Uno è Final Fantasy, uno è World of Warcraft, uno è Guild Wars 2, che sta vacillando non poco perché a livello di endgame è messo malissimo. Pur essendo partito da Dio, Guild Wars 2 aveva un potenziale enorme. E poi, vabbè, ci sono svariati altri titoli. Entrare nel mondo degli MMO su console è sicuramente una mezza furbata. Lo ha fatto anche Elder Scrolls Online. E sembra che gli stia pagando abbastanza bene, come cosa. Ora vediamo... Il gioco è abbastanza valido. Il gioco è abbastanza valido. Ho cambiato molto dal lancio. Ora è abbastanza valido. Il punto è che questo nuovo MMO dei Rare sarà una figata, come può permetterti l'ambientazione piratesca. Secondo me la possibilità c'è, ma non sarebbe neanche il primo MMO a ambientazione piratesca. Va bene. Non so neanche esattamente come verrà gestito. Non se ne sa ancora quasi. Nel frattempo a proposito di pirati, Piranha Bytes ha annunciato un nuovo gioco. Sì, un nuovo GDR. Non si sa esattamente che cosa sarà. Loro avevano fatto i giochi dei pirati. Non ti mangiare le unghie in diretta che ti ammazzo. È un GDR, ancora una volta, ad ambientazione post-apocalittica. Mezza fantasy. Ma perché tutto post-apocalittica? Vabbè, niente. Perché fa figo. L'anno scorso erano gli zombie, quest'anno il post-apocalittica. Stiamo diventando... Allora, dobbiamo vergognarci perché stiamo diventando come quelli della moda. che l'anno scorso andava il rosso con gli strass e quest'anno... Quando la fine arriverà. Ringrazierai di aver giocato a Fallout e di sapere cosa fare. Sì, ma il problema è che non è possibile che un anno è l'anno degli zombie, l'anno dopo quello della... Sì, quello della post-apocalisse. Intanto apriamo la chat, domande in chat, ragazzi. Sì, sì, sì. Ma vedrai che quando uscirà Horizon, di cui non abbiamo parlato, tra l'altro sarà l'anno dei robot di Fallout. Ecco, a proposito, ci chiedevano quando vedremo Horizon, Horizon lo vedremo probabilmente la prossima volta alla Gamescom, non prima. Esatto. Quindi manca un mese, più o meno. No, Horizon è uno dei titoli... Anzi, manca un mese. Horizon è uno dei titoli che chiaramente ci ha ispirato di più, perché è figo di brutto. Il gameplay sembra... Oddio, il gameplay sembra avere molto potenziale, sembra essere una sorta di Monster Hunter, principalmente basato sull'arco, ma con mostri molto più zeppi di punti deboli e pattern diversificati. Graficamente il gioco sembra proprio figo, i guerrilla e la grafica la sanno fare, se c'è una cosa che sanno fare è quella. E l'ambientazione mi ispira moltissimo, perché questa pseudo fantasy fantascienza... E sono veramente curioso. Horizon ha catturato un pochettino tutti. Uncharted 4, quindi ci ispira tantissimo, ed è uno dei titoli forti di Sony. Street Fighter V si è rivelato molto meglio di quanto si era fatto vedere all'inizio, quindi anche lì per gli appassionati picchi e duri c'è tanta carne al fuoco. Poi abbiamo Ghost Recon Wildlands, che chi se ne dica è sviluppato in Italia. Sì. E siamo sinceramente molto ispirati anche da quello e ha del grande potenziale. Ragazzi non sono scazzato, sono solo 32 gradi qui dentro. Di più. Forse di più. Forse di più. Sto morendo di caldo. Ragazzi non stiamo leggendo la chat tra l'altro. La sto leggendo io. No, ma dico per le domande. Le ho già aperte, non mi ascolta ragazzi. Ah va bene, ok. Sono arrivate 200.000 domande. Nel frattempo, Desmite una cosa. Guarda quanto costa il TomTom per la moto e poi mi dici se ho fatto male a comprare questo che fa anche il navigatore mentre sono in moto. Ah ecco. Sul serio, il navigatore del TomTom costa 400 euro, una cosa del genere. Io ne ho spesi 380 per questo orologio, però almeno lo uso come navigatore. Ma al di là di questo è completamente inutile. È vero, è assolutamente vero. Per il momento sì. Mi dice che in questo momento sono 33 gradi e fa molto caldo ragazzi. Sto sudando l'anima. Iniziamo con le domande dalla chat. Eh sì. Dunque. Guardiamo le domande dalla chat. Fallout Shelter per Android. Non ne sappiamo nulla ragazzi, ma arriverà, l'hanno promesso. Sappiamo qualcosa di più su anno 22.05? Anno 22.05. No, l'hanno presentato ma non ho proprio visto il gioco. Quindi non ho niente idea. Io non ti so dire assolutamente niente su quel gioco, se non che è prodotto da Ubisoft. E questa è la cosa che so. Ehm. Allora. Per le recensioni... Ah beh, c'era anche Dark Souls 3. Hanno ragione. che ci ispira moltissimo perché ha dei cambiamenti all game play molto interessanti. Siamo curiosi di vedere fino a che punto l'avranno evoluto. O se magari... Secondo me l'hanno semplificato. No, secondo me no. Secondo me sarà difficile. Come si diceva. C'è Miyazaki dietro. E Miyazaki è il solito malato. Vedremo. Allora, chiede Banhammer 62. Per le recensioni di giochi di tipo competitivo, ad esempio Counter Strike, Dota, RTS e vari, chiederete mai aiuto nella scriverlo a giocatori competitivi o professionisti? No. Lui dice perché le recensioni di Counter Strike e GO mi sembrano troppo basate sull'uoghi comuni e non è molto superficiale del titolo. Non so per Counter Strike e GO né chi l'abbia fatta. Però di norma, se noi facciamo delle recensioni, non sono superficiali. Perché i giochi li conosciamo. Il punto è quello che dico sempre, ragazzi. Un giocatore esperto... Io non potrei mai fare una recensione di Counter Strike. Esatto, io sì. Il punto è molto semplice, ragazzi. Anzi, essere bravi in un gioco non significa essere bravi redattori. Anzi, spesso e volentieri significa il contrario. Non farei mai scrivere un articolo... Potrei fare un sacco di begli esempi di pro-gamer che una volta li abbiamo messi alla prova... E sono stati disastrosi. Mamma mia. Ripeto, non vuol dire saper analizzare un gioco. Pro-gamer molto famosi che gli abbiamo fatto fare delle cose... Non farei mai scrivere, con tutto rispetto per il giocatore di calcio, non farei mai scrivere un articolo di calcio a Cassano. Esattamente. Quanto cazzo posso essere bravo? Cioè, non vuol dire assolutamente nulla. Bisogna saperli conoscere, i giochi. Bisogna saper analizzare le meccaniche. Essere super bravi non significa un cacchio. Esatto. Così come la Rai non fa tanto bene a chiamare come esperti di videogiochi quelli che fanno i video su YouTube. Esattamente. E' lo stesso discorso. Anche perché di redattori che siano dei pro e che abbiamo vinto dei tornei ce ne sono veramente pochi. Noi siamo molto informati. Certo, posso capire che alle volte la cosa può deludere. L'impreparazione di certi articoli specialistici può deludere. E' una cosa che ho criticato molto spesso anch'io. Perché ragazzi molte volte ho detto che la stampa italiana e internazionale si divide in chi fa le recensioni a istinto e chi le fa basandosi sull'analisi avanzata delle meccaniche. E che io ritengo la prima categoria sbagliata. Però è un punto di vista. Questo non significa che una recensione istintiva sia necessariamente negativa. Il punto è molto semplice. Non devi essere un pro per recensire un videogioco. Devi saperlo analizzare. Poi le cazzate capitano a tutti, le recensioni storte capitano a tutti perché siamo degli umani, non siamo dei robot. Ed è chiaro che dal punto di vista di qualcuno che è molto fissato con un gioco o lo gioca tantissimo e quindi lo conosce alla perfezione certe cose che magari scappano al redattore che deve fare mille giochi possono risultare fastidiose. Però l'analisi deve essere abbastanza completa ed è quello l'importante. Io molto spesso quando mi capita di recensire i giochi Nintendo siccome su Nintendo ci sono giocatori molto 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 attenti che sono anche persone che magari sono davvero fan sfegatate di una saga io in alcuni casi ho smesso addirittura di rispondere ai commenti perché vengono a farti il pelo nell'uovo su degli elementi che oggettivamente non cambiano minimamente il giudizio del gioco. Esatto però… Cioè hai detto che questa cosa avviene prima di quest'altra ma in realtà secondo il gioco tal d'Italia… Sì, allora la critica ci può stare e l'errore ci può stare. No, ma su certe cose io mi rendo conto che una persona che ama la follia un prodotto e una serie e la segue e la conosce come le sue tasche potrebbe in qualche modo trovare in completa una recensione scritta da uno come me o come te che deve recensire 300 giochi all'anno. Però il punto è che la recensione deve darti un'idea precisa per carità. Cioè io quando scrivo una recensione non mi rivolgo a chi è talmente fan della serie che lo comprerà a prescindere. Cerco di rivolgermi a tutti in generale. Esatto, ma anche perché uno, un super fan della serie difficilmente deve basarsi sulla recensione. Si basa nel 90% dei casi sulle wiki, sui forum ufficiali, sui siti ufficiali, sulle informazioni super precise. Ragazzi bisogna sempre fare la distinzione tra recensione e guida. Mi è capitato alle volte di leggere sotto a recensione da 20.000 battute e non hai scritto che se fai questo puoi fare questa roba qua. Quindi perché pregianza recensisce i musù? Ti chiede The Smite? Perché lì posso analizzare. Il punto è molto semplice ragazzi. I musù sono action. Ma guarda che lo banniamo The Smite? Aspetta un attimo. No io li voglio bene The Smite, non bannare The Smite. Il punto è molto semplice ragazzi. Aspetta adesso lo banno. The Smite. Io odio i musù, ma se mi basassi sui miei feeling, se mi basassi sui miei feeling del gioco, ok? Darei due a tutti i musù. Il fatto che io gli dia delle sufficienze non sono legati al fatto che io odio i musù. Sono legati al fatto che nel genere action, perché i musù sono degli action, sono mediocri. È tutta lì. È tutta lì. Quindi ragazzi non c'è un attaccamento all'odio per i musù ma cosa cazzo riesco? Niente, ho bannato The Smite. Sbanna The Smite. Non so come si sbanna, questo è il problema. Aspetta. Vediamo se ci riesco. Sei un idiota. No, ma non l'ho bannato. Gli ho dato il time out. Sì, gli hai dato il time out. Povero The Smite. Marco 902 scrive che tornerà più polemico di prima. Purtroppo non esiste il comando per togliergli il time out. Mi sa che per dieci minuti ci siamo giocati The Smite. Va bene. Ti insulterà fortissimo da dietro lo schermo nell'attesa di poter tornare più forte di prima. È più polemico di prima. Maledetto Lorenzo. Riff The Smite. Come in Super Saiyan. Dopo ogni time out torna più forte. E vabbè. Vabbè. No, Dr. White si è sbannato. Maledetto Dr. White. Fri The Smite. Salvate The Smite. Vabbè, questo è stato un bel momento. Bix Zbazza mi chiede cosa ne pensate di Nier della Square. Era un pochettino che ne volevo parlare di Nier. Nier è un gioco estremamente sottovalutato. Infatti è uno degli annunci che in realtà mi ha esaltato di più di queste tre. Nier. Oddio, anche Final Fantasy VII Remake mi ha fatto soltare della sedia. Però Nier mi ha esaltato fortissimo per due semplici motivazioni. Nier è un titolo che basa la sua trama sul mondo paradossalmente di Drakengard fatto da Yoko Taro. Se tu conosci Yoko Taro, Yoko Taro è uno dei più fottuti nel cervello sceneggiatori giapponesi al mondo. Cioè, i Drakengard, uno e tre, che sono quelli che ha scritto lui, hanno delle trame che vanno dalla... The Smite non parla più, dice, non parlo, ricordo. No, The Smite. Va bene, dai, dategli un banana a The Smite. Poi ci banna. No. Comunque dicevo, Nier è un titolo molto sottovalutato perché a livello narrativo spacca i culi, perché Yoko Taro è fuori di melone, ma fa delle trame di una drammaticità e una crudeltà incredibile. Cioè, spoiler alert, il finale di Nier, quello principale, quello primario, ti cancella il gioco. Ti cancella tutto, tutti i salvataggi, tutto quanto. Ti cancella il gioco. Quando tu finisci il gioco, ti cancella tutto. Non ti dico perché, ma è uno dei pochissimi giochi. Cioè, ti cancella proprio tutto il save game, non c'è modo di recuperarlo. E quindi? E quindi... Devi rinunciare. E quindi devi rinunciare a tutto per finirlo così. Ed è il finale vero del gioco, paradossalmente. E sono sempre finali multipli. E sono sempre tutti estremamente complessi a livello di narrativa. Nier era un gioco che aveva un'ambientazione della Madonna, una storia della Madonna, una colonna sonora eccezionale e che crollava solo nel gameplay, che per carità è importantissimo, ma crollava nel gameplay principalmente. Se mi dai il gameplay in mano ai Platinum Games e mi metti lui a scrivere il prossimo, cosa ti può venire fuori? Mancava di risorse e di gameplay. Non c'erano i soldi, ci hanno speso pochissimo, e mancava il gameplay. Ora che hai la gente brava che ti fa il gameplay e i soldi ce li metti, cosa può venire fuori? Può venire fuori un capolavoro, potenzialmente. Poi per carità sarà sempre una roba di nicchia che apprezzeranno dieci poveri stronzi, tra cui io. Però noi dieci poveri stronzi saremo contentissimi. Adesso abbiamo messo The Smite moderatore e comincerà a bannare tutti. Noooo! Hai dato il banana a The Smite! Il pop è dalla mia parte, Dragon Age 2, 8 e mezzo. Fermatelo! Ora vai... Noooo! Ora diventa... Ora diventa dittatore! The Smite ha la spada! Ohohoho! E' la fine! The Smite non bannare, The Smite calmati! Va bene, abbiamo mandato in bacca la chat. Basta è finita, non c'è più niente da fare. Direi... No no, c'erano altre domande in realtà, cerchiamo di concluderle. Ci chiedevano anche di Unravel, che ho provato... Markor dice su spazio ha preso 6,5 Nier. Markor lo so, ma non ero io il caporedattore, non era nostra la redazione. Su altri siti ha preso dei 5 e dei 4, quindi ti lascio intendere. C'è andata ancora... Invece, per quanto riguarda Unravel, il gioco io l'ho provato per circa un quarto d'ora ed è stato veramente una bellissima sorpresa. Si, veramente bella. E' un platform bidimensionale, a chi ha detto che ricordava Little Big Planet, in realtà manca tutta la componente creativa. Si, non c'entra proprio niente. E' un platform... Condivide il fatto che il personaggio principale è fatto di materiale lanoso. Anche Yoshi a questo punto. Cioè, diciamo che questa cosa di fare i personaggi di lana è un po' la moda del momento, un po' come gli zombie l'anno scorso. L'anno prossimo andrà la lana. Sì, sì, sì. E in realtà è basato su dei puzzle fisici che in quel senso un pochino ricordano quelli di Little Big Planet. Perché la fisica nel gioco è molto presente e permette di fare delle cose come, per esempio, tendere dei fili per trasformarli in trampoline di lancio su cui saltare, per raggiungere posti più alti, usare ovviamente la lana come altalena per spostarsi di luogo in luogo. Ma quello che è più interessante di tutto il gioco è l'atmosfera e la storia. Perché la storia è quella di questa signora anziana che rivede le sue cose del passato, le sue fotografie, eccetera. Gli cade questo gomitolo di lana, da lì ci nasce questo personaggio che si chiama Jarni e che inizia questo viaggio per la Svezia, per la Svezia in primavera, in inverno, quindi con la neve, eccetera, le zanzare. All'interno di questo panorama svedese trova degli oggetti che fanno rievocare i sogni di questa signora e quindi si vivono dei momenti anche drammatici della storia di questa signora e forse della storia della Svezia in generale. Quindi, onestamente, è stata una sorpresa perché non mi aspettavo un gioco così bello, carino e con una storia così profonda e invece è arrivato. Sì, assolutamente sì. Infatti, la sorpresa di Electronic Arts quest'anno è quella. Più che Mirror's Edge, più che tutto il resto è quella. Sì, sì, possibile. Tra l'altro, sempre tornando alla roba dell'E3, cosa ci siamo dimenticati? Vabbè, c'è Rainbow Six di Ubisoft che ispira sempre moltissimo, a me sempre piace moltissimo. Poi, 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 poi... Vabbè, appunto Mirror's Edge che è piuttosto interessante. Il nuovo Need for Speed. Il nuovo Need for Speed è molto interessante. Ma Electronic Arts quest'anno, tutto sommato, nonostante la sua conferenza fosse lentissima... Ha comunque i giochi. I giochi sono veramente buoni quest'anno. Assolutamente. Poi, vabbè, Star Fox, nonostante le tue brutte esperienze con i controlli, a me ispira parecchio. Mario Maker mi ispira parecchio perché ha moltissimo potenziale per farlo. Cioè, se la community prende piede, lì viene fuori una roba della Madonna. Non ho dubbio che prenderà piede, ho qualche dubbio sulla longevità del gioco. Eh, sì. Perché molti livelli sono carini, sono sperimentali, però io non mi ci vedo a giocare tante tante ore. Esatto. Poi c'era ItalianSolider che chiedeva cosa ne pensiamo di Star Citizen e del fatto che ha ritardato il modulo FPS. ragazzi, l'ho sempre detto, io su Star Citizen ho dei dubbi enormi, secondo me a un certo punto scapperanno quei soldi in Paraguay, però quello è un esempio dei soldi che avrebbe avuto bisogno di Shenmue per essere finanziato quasi completamente. Lì si rischia veramente di essere... di arrivare a una bolla... di sapore che... Cioè, adesso hanno messo il pre-order della nave a 600 dollari, quanto l'hanno messo? Una cosa fuori di testa. Sì, ma infatti io non capisco cosa stiamo facendo con Star Citizen. Invece, a proposito di giochi affini, mi si chiedeva qualcosa su... su No Man's Sky. Allora, No Man's Sky ha del grandissimo potenziale anche lui, è gigantesco, praticamente infinito. Vorremmo capire però fino a che punto quel game possa funzionare. Allora, ti dico, No Man's Sky non è Elite Dangerous. Esatto, è completamente diverso. Non è Elite Dangerous e è un gioco che io paragonerei più che Elite Dangerous a un titolo come Giorni, in cui hai la vastità dell'universo, la solitudine più totale perché è molto difficile incontrare un altro giocatore in un universo così vasto, lo è già in Elite Dangerous, figuriamoci in un gioco ancora più grosso. Però lì l'esplorazione è principalmente naturale. Quasi esclusivamente naturale, perché non ci sono razze intelligenti, Così pare. In che scuola però secondo me è una... Tranne la razza dei protettori che se spacchi il pianeta ti fa un culo così. Che però pare che non sia una razza intelligente, sia una sorta di androide. Sì, di kill switch fondamentalmente, nel senso che se tu cerchi di raccogliere, di distruggere un pianeta, questi arrivano e cercano di farti il culo. Assomigliano un po' alla figura dei guardiani di Mass Effect, per capire. Guardiani della cittadella. Però... Sì. Però aggressivi. Perché guardiani ragioni buoni. Esatto. Che scrivevano e basta. Questi invece sono... Sono cattivi. Cioè sparano. Esattamente. No, il punto è che non mescaglia del grandissimo potenziale, però bisogna vedere se con l'assenza dei razzi intelligenti, la quasi impossibilità di giocare online con altre persone, la raccolta di questo, la scoperta del mondo, basterà tenerti incollato allo schermo per le ore necessarie, anche perché sembra che ci sia una sorta di campagna che ti spinge al centro dell'universo, che dovrebbe rappresentare una sorta di finale del gioco, anche se diceva il programmatore che in realtà il gioco, anche dopo quella, non finisce. Però il potenziale è tanto e secondo me ci sono molte... molte robe potenziali. The Smite ci chiede qualche informazione su Tacoma, il gioco di quelli di Gonom. Non lo so, non lo conosco purtroppo, ma abbiamo saltato Metal Gear Solid V che è uno dei giochi più desiderati sia da noi che da community. Io ragazzi l'ho giocato dieci ore passa prima del live, vi posso dire che mi ha impressionato davvero molto positivamente, ma che la roba che non vogliono nominare Kojima l'avevo già vista nell'NDA che avevo dovuto firmare là. Quindi fate voi quali sono i rapporti al momento con Kojima di Konami. Non so veramente dirvi altro a riguardo, però secondo me quel gioco ha veramente un potenziale enorme. Poi c'è gente che cerca di farmi parlare del film di Favij, no ragazzi non ne parlerò. Prima voglio vederlo, io prima di parlare. È inutile fare critica preventiva, magari è un capolavoro. Sì, io sono Gesù Bambino. Allora io vorrei un trenino. Vattene, sei caldo, vaffanculo. Ci sono 37 gradi, cosa ti siedi sopra la gente? Si sarà pieno di Kojima, te lo posso assicurare. Ne ho viste io tantissimo in dieci ore e ho fatto una minima parte del gioco, figuriamoci. Già il sistema per far sparire i cadaveri attaccando da dei palloni aerostatici è una gimmata eccezionale. Ma poi devi sentire come urlano quando partono, cioè è proprio eccezionale. Poi si parla di The Last of Us 2. Scusa Vinzolo che chiede chi cazzo è vendito. Scusami, perdonami, va bene. Qualcuno avrà capito. La notizia riguarda The Last of Us 2. Si parla di un nuovo The Last of Us con altri protagonisti di cui si vociferava già molto. Però non si sa nulla in realtà. Lì è impazzito il doppiatore di Nathan Drake che ha fatto un'intervista e ha fondamentalmente svelato tutto lo svelabile. Sia riguardante Uncharted ha detto un po' di roba e poi ha svelato non mi ricordo quale altro gioco di lavorazione da un'altra parte e poi ha detto sì sì stanno facendo The Last of Us 2 fondamentalmente buttandola lì, no? Beh mi sembra abbastanza scontato. Sì era abbastanza scontato però devo dire che per quanto i noti mi piacciono e The Last of Us io l'abbia apprezzato non mi piace sta cosa. Cioè è veramente possibile al giorno d'oggi che uno non possa più fare una cosa bella e lasciarla lì? Falla, verrà ricordato per sempre, chiudila, basta fai altro. Non è proprio più possibile, dobbiamo proprio fare i seguiti di tutto. Eh vabbè, ma poi magari gli verrà fuori comunque un gioco della Madonna. Digway93 chiede pensate che Tomb Raider verrà rimandato uscendo lo stesso giorno di Fallout 4? Non penso. Che cosa? Tomb Raider se verrà rimandato perché esce lo stesso giorno di Fallout 4. Non credo, sono giochi molto diversi anche Tomb Raider. Sono mercati abbastanza diversi e francamente poi Tomb Raider è un'esclusiva quindi non credo che le due cose, cioè che comporti il ritardo di uno. Se proprio devono ritardarlo o anticiparlo sarà di una settimana ma non credo che vanno a rimandare di mesi per allontanarsi da Fallout 4. Non è GTA 5. No, non è GTA 5 ma soprattutto, ripeto, sono generi che non si scontrano neanche particolarmente, quindi non hanno grandi problematiche. Allora, facciamo qualche altra domanda. Sì, ancora un paio di domande poi chiudiamo. Comprerete a Day One una ipotetica Nintendo NX se uscirà a fine 2016? Bisogna vedere com'è la Nintendo NX, ragazzi. Però ora è tutto per aria, sembra che sia una console con delle cartellistiche molto interessanti. Sono davvero curioso di vederla però si dovrà vedere, insomma, cos'è. Adesso non si può dire sì la prendo o non la prendo. Certo. Kingdom Hearts 3 nel 2016? Possibile, però. No, secondo me no. 2017. 2017. Sì, perché nel 2016 hanno Final Fantasy XV secondo me. Continuano a chiederci tutti un anteprima di Final Fantasy XVI basata sul nuovo trailer. Final Fantasy XVI. Eh sì, buonanotte. Scusami, no, perdonami, di Kingdom Hearts 3. Eh, ma il punto è che il nuovo trailer fa vedere un po' di elementi interessanti di gameplay, ma poco e... Ci proviamo, ma... Cioè, sarebbe un... È molto difficile, ragazzi. Cioè, sarebbe un articolo principalmente di aspettative e analisi del gameplay. Ci sta, per carità, anche perché qualche elemento della trama c'è. Eh, però per dirvi, io li ho giocati tutti, Kingdom Hearts, li ho sempre adorati e mi piacciono tanto. Però la trama di Kingdom Hearts è molto confusionale. Se vi devo dire la verità, li ho giocati tanto tempo fa che ora non mi ricordo più un cazzo. Tipo Xenaort cosa faceva e perché, non me lo ricordo, assolutamente. Assolutamente. Matt TheSmith ha ragione sulla... Sulla questione stop preordering videogames. Sì, assolutamente. A meno che non sia un'edizione che finisce per forza perché è limitata, vedete il caso di Batman, non ha senso. No, esatto. Cioè, non ha senso per ordinare se non c'è di mezzo collezionismo. L'unico motivo per cui ha senso per ordinare è quando volete una collector, se siete consapevoli, che è molto limitata e non l'avrete in altro modo. Tipo il Pip-Boy, l'edizione Pip-Boy, che è già finita un po' ovunque, ma... È finita dopo 12 ore che l'hanno messa... Però, ripeto, in caso contrario, il preorder, specialmente nella generazione odierna dove l'80% dei giochi escono in beta, è deleterio. Ragazzi, potete aspettare, ci sono tanti di quei videogiochi che se aspettate una settimana o un mese, guardate tutte le informazioni di cui avete bisogno per capire se un gioco è uscito come di quando oppure no. Non è impossibile, potete prenderlo quando volete. Che cosa possiamo dire sul nuovo Hitman, chiede Marco T98? Sembra molto promettente che era un ritorno al passato. La debolezza di Absolution, oltre a un sistema di stealth che andava un po' a perdersi alle difficoltà massime, perché erano quasi inutilizzabili travestimenti in assenza della barra dell'istinto, era un gran gioco, anche Absolution era un bellissimo gioco, però andava a perdere quella apertura delle missioni di Epic Hitman, avevi comunque un sacco di possibilità di completare le missioni, ma quella seguire la narrativa ti portava ad avere delle fasi molto lineari che non erano proprio della serie, quando la serie in realtà era sempre stata. Ti metti in una mappa, lì c'è il tuo obiettivo, ammazzalo come cazzo vuoi. Era ancora un po' così, ma non del tutto. Adesso sembra tornato a questo, cioè sembra tornato all'origine, cioè con i miglioramenti fatti in Absolution, però sei in una missione, sei in una mappa, hai un obiettivo, hai 20 modi per ammazzarlo, fallo, vai. Quella è una figata, l'idea di fondo è molto bella, infatti credo che sarà un gran gioco, perché l'hanno già dimostrato con Absolution di avere ancora il tocco secondo me agli AIO Interactive, quindi sono curioso di vedere cosa riusciranno a fare con questo. Ok, allora chiudiamo con un annuncio, perché questa sera alle 21 ci sarà… Sì, abbiamo il live di Destiny di questi nuovi ragazzi che io non conosco, ma tu conosci tu. Sì, allora lanceremo una nuova serie di live su Destiny, quindi insomma se volete vedere facce nuove e qualcosa di nuovo, questa sera alle 21 faremo una diretta e volevo anche ringraziare Wigigi per avermi mandato una copia di Just Cause 2, mi ha regalato una copia di Just Cause 2, sono molto contento, e niente per PC, che ce l'avevo per Xbox 360, ma vabbè insomma, e niente, noi ci fermiamo qua, ci vediamo la settimana prossima con i live qui dalla redazione, sperando che la connessione si ripigli. Sennò c'era chi chiedeva del nostro trasferimento, ragazzi noi ci trasferiremo a settembre nella nuova redazione, non avrete più problemi con le connessioni perché lì avremo la fibra, e se non va neanche la fibra vado veramente da chi ce la fornisce, e li ammazzo di botte perché non so più come... Le dici dammi la fibra! Dammi la fibra! Esatto! Dammi la fibra o ti spezzo le fibre, e quindi dovremmo non avere più problemi di connessione, dovremmo avere una bella redazione che non è un appartamento riadattato come questo, ma è una redazione proprio grossa con tutte le robe in regola, quindi a settembre aspettate... Le robe in regola! Le robe in regola, vabbè sì abbiamo anche qua le robe in regola però dicevo... Ma a parte la porta! Sì beh, c'è caduto qualcuno, non so chi possa essere... Cioè tipo, Aligi è passato attraverso la porta e questi sono i risultati, vedete? È vetro eh! E non mi sono fatto niente, sono indistruttibile! Comunque... Ti sei un po' tagliato! Solo poco! Ma comunque da settembre non dovremmo più avere problemi, dovremmo avere una redazione a modo... No è bellissimo, io ho visto... Ragazzi, allora vi farò un video con la GoPro dal cantiere e vi faccio vedere cosa sta venendo perché è una figata! E fare uno step up qualitativo non indifferente a livello di mezzi e contenuti, quindi aspettate con impazienza! Basta! Chiudiamo qua il live, è stato bello lungo perché ne avevamo bisogno! Era un po' di tempo che mancavamo! Esatto! Vi ricordo di nuovo 21 questa sera Destiny, settimana prossima! Adesso lo annunciamo sulla home... Sì, lo mettiamo in home adesso e lo annunciamo anche su Facebook e con gli altri live la settimana prossima, lunedì, ci saranno gli annunci delle dirette! Yes! Ciao! 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 Ciao!